. Coccole dolci tra Ignazio Moser e Ivana Mrazova, ma la modella sarebbe già fidanzata. Ad oggi, nell'edizione in corso del Grande Fratello VIP abbiamo visto più litigi che carezze, ma chissà che nella casa più spiata d'Italia non stia per nascere una nuova storia d'amore. I diretti interessati potrebbero essere Ignazio Moser e Ivana Mrazova, il figlio del grande ciclista Francesco Moser e la modella cieca sono sempre più vicini e intimi e la complicità reciproca è ormai palpabile. I grattini di Ignazio Moser e Ivana Mrazova e il presunto bacio. Lo dimostra il momento coccole di qualche giorno fa, quando, sul letto, Ignazio ha accettato di farle dei teneri grattini alla testa e accarezzarle i capelli, video. I due appaiono davvero inseparabili negli ultimi tempi e lui non tralascia di farle frequenti complimenti per la sua bellezza, del loro feeling sembra essersi accorto anche Cristiano Malgioglio, che cerca di spingere per il loro avvicinamento. Alcuni spettatori, sui social, parlano addirittura di un presunto bacio sotto le coperte. Dopo l'eliminazione di Carla Krutz, che ha avuto un flirt con Jeremias Rodriguez, potrebbe davvero sbocciare un agliason all'interno del reality? Ivana Mrazova sarebbe fidanzata con Alessandro Alevato. Il fidanzato sarebbe l'imprenditore romano. che sul suo profilo Instagram ha diverse foto in compagnia della Mrazova e qualche giorno fa ha pubblicato un post in cui manifesta il suo sostegno per la giovane. Ignazio Moser, curiosità e vita privata. Ignazio è invece single, ma è preceduto da una fama da playboy confermata dallo stesso papà Francesco in una recente intervista a Gente, non ha una fidanzata ma tante. Il ragazzo ha spiegato al GF VIP di essere uscito da pochi mesi da una storia importante e tormentata che ha lasciato in lui strascichi dolorosi, la ex è la modella Virginia Stabloom, che proprio in questi giorni è entrata come corteggiatrice e uomini e donne. Dall'ora, per lui ci sono stati solo brevi flirt senza troppo coinvolgimento. La bella Ivana rischia però di fare breccia nel suo cuore, si attendono sviluppi, mentre il pubblico già tifa per la nascita della nuova coppia. Grazie per la visione!